Beatrice Sacco, libero della Despar Perugia, un ritorno per te dopo un'assenza di un paio di stagioni, come hai trovato la squadra? Ma guarda, innanzitutto ti dico che sono contenta di essere tornata per tanti motivi, soprattutto quello sportivo, comunque stare in una squadra così importante, c'è sempre qualche motivazione in più, al di là del giocare meno, un po' più fuori. E oggi abbiamo fatto la nostra prima uscita, qualche altra amichevole in settimana, e niente, dobbiamo giocare tanto, perché comunque la squadra, sono tanti elementi nuovi, nonostante qualche assenza per le nazionali, però stiamo andando abbastanza bene, anche se abbiamo tanto lavoro nelle gambe. Dopo aver vissuto altre due stagioni da titolare, ritorni qua, lottando il posto con Chiara Arcangeli, convocata in nazionale, è un atteggiamento diverso il tuo per entrare in allenamento in partita? Ma guarda, lottare per il posto, sì, chiamiamolo così, però io sono venuta qui, quando vengo chiamata cerco di dare il meglio, e comunque siamo nella stessa squadra, quindi gli obiettivi sono gli stessi, non c'è nessuna rivalità. Quali sono le prime impressioni avute dalle nuove compagne di squadra? Ma guarda, tutte ragazze comunque giovani e emergenti, però come ripeto, adesso ancora siamo nella preparazione, quindi ancora abbiamo le gambe stanche e abbiamo modo comunque di migliorare.